L'autorità di sistema portuale ha avviato i lavori della costruzione di un pontile galeggiante in Darsena. Il progetto è nel quadro del programma di riqualificazione urbana della Darsena di città. E nello specifico, all'interno del progetto, Ravena in Darsena e il mare in piazza, il Comune ha candidato la realizzazione di un pontile per l'accesso all'acqua e collegamento con il mare in mobilità sostenibile. Un progetto che mira l'aumento dell'attrattività del quartiere Darsena. L'intervento prevede la realizzazione di un pontile galeggiante privo di barriere architettoniche, quindi utilizzabile anche da disabili motori. La struttura avrà come punto di accesso l'attuale rampa inclinata posta sulla passarella lungo il Candiano, già realizzata dal Comune di Ravena. Per quanto riguarda il costo dell'opera, è stato previsto di circa 500.000 euro, finanziati dal Ministero attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione.